Grazie per averci seguiti, per me è stato un onore presentare questo premio anche in versione, come dire, casalinga. Tanti baci da me e Cacao e soprattutto tantissimi complimenti perché siete tutti grandissimi artisti e io sono veramente felice di aver parlato di persone così interessanti e importanti per tutti noi in questo momento. Grazie, ciao!